Buongiorno, sono la dottoressa Stella. Oggi riprendiamo con le domande attraverso la consulenza a distanza. Luisa ci chiede informazioni su come purificare il fegato e quando è necessario farlo. I sintomi possono essere di varia origine come crampi, acidità, eccessiva sudorazione, acchina e se ti ritrovi in alcuni di questi è giunta l'ora di prenderti cura del tuo fegato. Ora vi darò alcuni consigli su come purificare il fegato in maniera naturale. Come prima cosa è bere acqua calda e il limone al mattino in quanto il limone essendo ricco di antiossidanti ha funzione protettiva sulle vie biliari migliorando le funzioni epatiche e digestive. Altri rimedi naturali come la bardana, il tarassaco, la linfa di betulla oltre ad avere azione depurativa hanno anche azione drenante e li troviamo sotto forma di soluzione, gocce o di sale. Bene, spero vi sia stata d'aiuto. Ci vediamo al prossimo video per rispondere alle vostre domande attraverso i nostri canali via web, via whatsapp, via telefono. Ciao, alla prossima! Ciao!